Musica E' questo evento speciale organizzato da Fabricio Cinema Quando il cinema me lo permette faccio molto molto volentieri musica Mi è preso un colpo quando ci hanno detto che avremmo suonato prima dei Bud Spencer Blues Explosion Bud Spencer Blues Explosion Siamo lusingati di poter partecipare a una manifestazione del genere Mai avrei immaginato uno potesse includere in un gruppo come noi Musica Musica Musica